Lavoro, inclusione, sviluppo e autonomia è il progetto LISA della Croce Rossa Italiana che a Benevento conta sulla collaborazione di Confindustria per raffavorire l'inclusione lavorativa delle persone in condizioni di svantaggio e vulnerabilità e al contempo a crescere la consapevolezza della comunità sull'importanza di coniugare produttività e inclusione sociale. Un'iniziativa per le persone con disabilità ma anche per ex detenuti. Questa mattina presso la città della Welcome del Consorzio Sale della Terra il primo confronto tra aziende e coloro che anche tramite le associazioni chiedono un impiego. È importante l'incontro di oggi perché avvicina i due mondi, quello dell'imprenditoria e quello delle associazioni e soprattutto Croce Rossa con questa importante iniziativa mirata alla collocazione delle persone con disabilità. La fragilità non è sempre, deve essere vista come un qualcosa di negativo. Iniziativa sociale della Croce Rossa con al centro anche lo scopo di incrociare domande e offerta anche tramite un portale dedicato. È un partenariato molto ampio che ci sta consentendo di incrociare la domanda e l'offerta di lavoro. Da un lato il mondo delle aziende con la Confindustria che era presente oggi e che ringrazio, da un l'altro lato tutti i nostri beneficiari, le persone appunto oggi in particolare colpite da disabilità che in questa seconda fase dopo la tavola rotonda si confronteranno e porranno essere proprio dei veri e propri colloqui per incrociare la domanda con l'offerta di lavoro.